Grazie No, ci ha caricato il coperto Ci portiamo via Stasera porta via La tovaglia Io stasera porto il tovaglia No, no, ci ha caricato il coperto Non lo so, tre coperti E il lavaggio della biancheria No, no, il lavaggio della biancheria Sai quanti le lavo No, 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 vai E basta Togliamo e prendiamo via Il coperto Grazie mille E si porta nella domanda Grazie Grazie Grazie, buonasera Grazie